Previsioni per domenica 12 marzo. Cielo al primo mattino con residui addensamenti per nubi basse sui settori interni in graduale dissolvimento. Al mattino possibili debi fenomeni residui su settori interni meridionali, temperature in diminuzione, venti di brezza leggera lungo la fascia costiera, mare mosso con moto ondose in attenuazione dal pomeriggio. Grazie per la visione!